Piacenza la ducana delle font si che si entrava si scendeva la ducana delle font la ducana delle font oh da dietro sembra che c'è la barba viene se una quarta destra perchè c'è la luce volevo fare un referendo facciamo uscita solo a Piacenza si capisce un cazzo Piacenza Nord Piacenza Ovest poi mi sono trovato a Con con il colpione con il colpione con il colpione torso sette volte ho chiesto uno dove andava al palabra il kebab il kebab sto cazzo veramente cristiane ma pagheranno le dici quelle del kebab per me ma è un'altra cosa ma il Vaticano paga invece non ho capito se pagassero loro però facciamoci un applauso però però ragazzi il governo Monti come Berlusconi si parla già di passera no noi siamo espulsi perchè trovo i Monti a Manca Collina il povero Berlusconi è entrato in politica perchè l'Italia da va puttane ma almeno si rideva adesso non sappiamo più come far ridere c'è Berlusconi un ragazzo l'ha salvato chi è che l'ha detto? negato l'ha salvato un bambino stava negato un ragazzino stava negato Berlusconi allora il bambino ha chiesto chiediti quello che vuoi e cosa ti ha detto? chiediti quello che vuoi mi ha detto ma segnalo a te perchè se dico mio padre che ha salvato Berlusconi mi spacca le gambe e pensa che Umberto Bossi invece ha comprato un cane e l'ha chiamato Ron quando gli ha da mangiare gli dice te Ron te Ron te Ron perchè l'ha fatto il Carabria ieri non l'ho capito no però c'è un posto vicino a chi non paga lì cilieuro eh? non paga lì cilieuro ma li paga lo paga in scudi perchè? Grazzaro Visconti Maldini no arrivi lì a Grazzaro Visconti e sono ancora ancora senza io mi ricordo che abbiamo fatto uno spettacolo Grazzaro Visconti d'estate e diciamo abbiamo iniziato la gente scappava pensavamo che di essere scherzi a parti invece perchè era partita delegazione è vero e poi oh volevo fare un punto di silenzio volevo fare un punto di silenzio a Piacenza Calcio io all'Inter no no lascia stare che ha perso cioè senza calcio è proprio morto ha perso anche l'Inter ma vabbè adesso cosa fanno il campionato di prima divisione cosa che fanno? no Piacenza però c'è la pallavola cosa fanno Piacenza? no 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 è fallitissimo schifo ah è un campionato nuovo ma tu fai cagè fai cagè fai cagè fai cagè fai cagè fai cagè no poi c'è veramente poi lo zoom no la cosa più facile da trovare a Piacenza sono i parcheggi ho saputo nel proprio senso e l'era no c'è l'isola pedonale che grande come Piacenza una rima fa dove posso parcheggiare? Piacenza ovest però noi abbiamo parlato di monti ma poi siamo al palabanca il cacchio c'era palabanca banca è perchè il monte dipende banca passera banca non è che puoi fare in un elba un fascio c'è un cacciavite a stella c'è una puntata di elocchitti ogni tanto il baffo di elocchitti mi ha detto e mi fa il sole al governo quest'anno mangiano ragù no spaghetti ragù e passera mentre l'anno scorso non c'era né il ragù e neanche gli spaghetti sai che Berlusconi quando fa la no Berlusconi Bossi quando fa l'amore con sua moglie prima la rega ah caglita va 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 stavo cadendo stavi cadendo dai allora una bella sigla perchè sono arrivate questa sera due signore a trovarci eh sei contento Bruno sei contento mi sto cagando della voglia proprio vai manda la sigla ecco la sigla le signore che sigla del caso ehi sulle mani vieni i portafogli vai 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 portate fuori piedi allora ehi sulle mani vieni i portafogli la roba è san patrighiano 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 ehi ehi come fa Federica bene bene come fai esqui tu ehi 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 ero sull'autorone l'ho trovato facilmente perchè sono sbaldata e sono finita qua ah sei venuta a vedere lo spettacolo si si veramente un bello spettacolo ma perchè che c'era? eh andiamo accelentato no ma hanno detto che c'erano i fichi di mia si si ma uno dei due mi fa tanta pena è proprio brutto qua non si dire se quanta anni eh la bella gara fra tutte e due lei lascia andare va si almeno uno è scusato ha avuto un incidente ma l'altro è nato così non dire pensa che disgrazia il canna loro eh ma ma ha detto che la moglie di quello brutto se la intende con quello bello no questo dove non c'era nel copione bastardo io so che invece dell'amore di quello bello eh fa fa ma ma sei visto sei visto il cuoio capellunto ma luca cinesi eh fra un po' arrivano ci mandano via ventinove euro eh ventinove euro e no cosa stavi vincendo se mi dai l'argento ma cosa mi stai in arrando ma cosa mi stai in arrando ma cosa mi stai in arrando ti stavo dicendo che la moglie di quello bello eh è tre anni che fa il presepe vivente eh ma perchè fa del bene alla parrocchia eh ma son tre anni che fa la grotta no sono entrati ne immagino se son più visti ah i tre mai sono di Milano eh perchè ho le gioie e la brate e prima tizio non c'era ma fai l'albero quest'anno Federico fai l'albero presente fai l'albero ah ah tu quest'anno ti fai vedere ti fai vedere ma non c'ho tempo poi potremmo stirare con il tiziano chi è il tiziano fermo no ma vai la cacca tiziano ferro no 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 non faccio il presente perchè se no devo pagare l'inci delle casette che mettono ma non si chiama più l'inci imu 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 ah l'imu è l'emu che è un animale ma l'imu questo è l'immudizia ah l'immudizia eh eh mia figlia eh cosa è successo? oddio gli hanno regalato un'elicottero eh no gli hanno regalato uno yacht di 40 metri eh devi pagare anche quello il volo da tassa te gli hanno regalato un Rolex di diamanti e una casa cortina eh che forte eh mia figlia eh quanti regali eh eh mia figlia è andata ad arcore ma ha trovato chiuso eh è andata di lunedì? si eh ma di lunedì è chiuso per entrare ci vuole fede ah nessuno ma l'ho capita eh eh si è tempo di romacchere no l'albero volevo fare l'albero quest'anno eh eh cosa cucini per capodanno? la zappogna con le lenticchie no mi trombolo zappognaro no che è meglio sai che mi hanno trovato un polipo in gola no ma che si no c'ho un polipo nel ho una cozza nel culo no fedeli no ci sono andata a mangiare in un ristorante e mi sento che c'era mica la cozza no era anche aperta camminavo così no ma di sul limone ma di sul limone ma di sul limone il prezzetto il prezzetto il prezzetto il prezzetto il prezzetto il prezzetto ma perchè non attraversi l'albostrada? e un paio e un paio di volte avanti ma perchè io non ti credo negli investimenti no no non è che ti diverto ti trovano a reggio Calabria sul cocco di un tiro oh madonna come te sei cusciata oh mamma mia c'è ci scansi no no comunque faccio l'albero per stare come lo fai? come lo fai l'albero? sentiamo ciao si contasi lo faccio alto due metri e mezzo eh chissà che sono fitti alti oh lo metto straiato il vaso in cucina la punta in salotto le palle dipende dove mio marito è sei avanti e indietro ovunque lo fai tutto waka waka mi scappa la cacca ma è suicida non è mai interessante ho provato quella migliottina ma non sono tagliata no io sono conto no eh ma va eh ma non ma sei di voglio te per cari sei dalla montagna no di caosso caosso cos'è in Svizzera? caosso ah girami dai romana che girami comunque son contenta perchè mio marito mi ha fatto un bel regalo no si te ha regalà Federica eh fai Vai bendata nel traffico! Ma ha regalato una bella giacca di pantera! No! Vada a me! Se l'unico problema...